Adesso, a questo punto della nostra rubrica, come sempre, vediamo l'andamento dei mercati finanziari. Impostazione Elena Ballarani. Chiusura statica per le borse europee, medaglia d'argento a Piazza Affari Seconda in Europa, solo a Wall Street. Mannaggia! No, 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 dai! Vi chiediamo scusa, ma c'è stato un momento di difficoltà di Elena Ballarani e succede quando andiamo in diretta. Andiamo avanti. L'Ater Umbria, l'Ater Umbria, l'Ater Umbria. Oggi c'è stata la consegna di altri 22 alloggi ad altrettanti gruppi familiari a canone agevolato. Si trovano a Ponte San Giovanni. Vediamo.